Sono 4 o 5 le segnalazioni arrivate al comune di Vaiano sulla presenza, vera o presunta, lo diranno gli accertamenti, di macchine da lavoro all'interno di appartamenti abitati da cinesi. Lo ha detto il sindaco Primo Bosi. L'incendio che sabato scorso ha distrutto la casa fabbrica della Tignamica e provocato la morte di due operai, ha spinto i cittadini a denunciare, o per dirla come il procuratore Giuseppe Nicolosi, a collaborare. Una collaborazione fondamentale contro la clandestinizzazione delle ditte cinesi che si nascondono dentro le abitazioni, dove il controllo è più difficile trattandosi di domicilio e come tale, lo dice la Costituzione, inviolabile. Ma se ci sono indizi di reato sufficienti a giustificare un mandato dell'autorità giudiziaria, ecco che forze dell'ordine e organi di vigilanza possono accedere anche contro la volontà di chi, proprietario o inquilino, vive nell'abitazione. Diverso invece il discorso quando si parla di luoghi di lavoro. Qui l'accesso deve essere sempre consentito agli organi di vigilanza e chi lo nega commette un reato. La questione è spinosa e le interpretazioni sono diverse, ma è chiara la difficoltà e sono chiari i vincoli che rallentano l'azione di un controllo coatto, che è altra cosa dal controllo che può essere fatto senza un mandato dell'autorità, solo se chi occupa l'abitazione nella quale si sospetta lo svolgimento di attività illecite permette l'ingresso. Da qui l'appello ai cittadini alla massima collaborazione. Segnalare il rumore di macchine per cucire oppure il carico e lo scarico di materiale da lavoro significa mettere in moto un controllo. Intanto il procuratore Nicolosi ha incontrato oggi il capo degli ispettori ASL del progetto regionale Lavoro Sicuro, Renzo Berti, a cui ha anticipato le nuove direttive in fatto di controlli nei capannoni e l'obiettivo è certamente una ulteriore stretta. Quanto alle indagini sulla tragedia della settimana scorsa, gli investigatori sono ancora in attesa di interrogare la cinese che è finita sul registro degli indagati per omicidio colposo plurimo e omissione delle cautele antinfortunistiche sui luoghi di lavoro. La donna, rimasta intossicata, è ancora ricoverata in ospedale. La procura si è presa qualche altro giorno di tempo per completare il quadro delle persone eventualmente indagabili e poi darà il via all'autopsia sulle due vittime.